In questo video di MS Access andremo a visionare come gestire i valori null posti all'interno delle colonne numeriche e posti all'interno delle colonne alfanumeriche. Vi ho preparato questa tabellina di esempio dove ho la città che è tutta compilata, ho il valore che ha sia numeri positivi che negativi, uno zero, e anche due null, che poi andremo a gestire con la funzione nz. Abbiamo infine anche la colonna visitata che è alfanumerica, abbiamo un solo record con null, quindi io voglio gestire queste casistiche senza utilizzare un if che è lento ed è scomodo anche da scrivere. Andiamo a vedere il risultato che ho compilato e poi andiamo a vedere come ho fatto la query. Qui ho le due colonne originali, qui se vedete ho utilizzato la funzione nz che l'ho impostato in modo che mi riporta uno zero quando trova dei null. E vedete che effettivamente ha portato lo zero, se osservate i numeri sono sulla sinistra, quindi quando utilizziamo la funzione nz di default lui lo trasforma in un testo, quindi bisogna fare attenzione. Però in realtà se utilizziamo dei numeri e poi facciamo delle operazioni comunque lui sente l'operazione e lo gestisce come un numero. Difatti su queste due colonne qua è senza la funzione nz, è qui con la funzione nz. E che cosa faccio? Vado a moltiplicare praticamente il risultato del mio valore per 2. Quindi vedete che fa 200, 0 perché 2 per 0 fa 0, 1300 qua mi dà 0 e qua mi dà 0. Io voglio gestire il null in modo differente. Quando c'è un null io voglio che sia 1. Difatti vedete che se faccio 1 per 2 poi con la nz mi dà il 2. Quindi non è che possiamo valorizzare solo il 0 o il 2. Possiamo mettere qualsiasi valore in risposta quando troviamo un null. Difatti sulla visita, vedete questa è visitata nella colonna originale dove monaco non ha nessuna informazione. Quando io sulla colonna visitata trovo un null voglio scrivere nd, non definito. Ok? Perché non ho una risposta. La funzione nz è estremamente semplice da utilizzare. La vediamo qui sulla colonna che ho fatto qua. Valore nz. Se vedete basta scrivere il campo, il nome del campo come lo vogliamo risultante. Quindi sarà il nome che compare nel campo quando eseguiamo la query. Due punti e qua inseriamo semplicemente nz. Mettiamo il campo che vogliamo controllare. Punto e virgole sul secondo parametro mettiamo l'informazione che deve essere inserita se troviamo un null. Quindi in questo caso gli sto dicendo guarda mettimi uno zero. Dove vado a fare l'operazione gli dico guarda mettimi un uno. Quindi se trovi un null metti un uno. Se invece andiamo a vedere appunto la colonna alfanumerica gli sto dicendo guarda che in questo campo quando trovi un null vai a mettere il valore nd. Ecco che senza fare un if abbiamo gestito in modo molto semplice i casi null. E la funzione nz è un pochino più veloce della funzione if. Se il video è stato il vostro aggredimento lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Invece se vorrete aiutarmi a sostenere il canale in modo incisivo per continuare a fare video e a portare sempre cose nuove all'interno del canale. Magari pensate a stipulare un abbonamento o quel tasto abbonati che trovate sotto al video. È veramente un supporto molto importante per me. Quindi se siete nel dubbio schiassate il bottoncino e scegliete uno dei tier disponibili. Ci sono tantissimi servizi interessanti all'interno del mio canale. Sfruttateli al meglio. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui. Ci vediamo nel prossimo video. A presto. Ciao.